Alessandra Mastronardi annuncia il matrimonio con Sannino, a luglio mi sposo ecco dove. Alessandra Mastronardi è innamorata e felice. A Vaniti Fer l'attrice 37enne annuncia il matrimonio con Giampaolo Sannino. A luglio mi sposo, confessa. Lei e l'affermato dentista romano stanno insieme da due anni, in estate arriveranno i fiori d'arancio. L'unica apparizione pubblica della coppia finora è stata quella alla prima della scala lo scorso dicembre. Alessandra e il compagno sono riservatissimi. I due si sono conosciuti da ragazzi. Poi si sono allontanati, ma il destino li ha nuovamente riuniti, come in un film. Dopo 15 anni devi capire che è la persona della vita e che non ci puoi fare nulla, devi cedere, rivela. La Mastronardi ha finalmente trovato l'amore con la maiuscola, da due anni sto con Giampaolo. Ci sposiamo a luglio. Sulla loro uscita ufficiale di dicembre racconta, mi ha maledetto. Perché, da riservato quale è, era agitato. Io gli dicevo di rilassarsi. Lui, ma rilassati cosa? Alla nostra prima uscita mi porti in un posto con il Presidente della Repubblica. E' stato molto divertente vederlo in difficoltà. Quando le si domanda quando si siano incontrati per la prima volta, la stella dei Cesaroni svela, 17 anni fa. E' una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo rincorsi per una vita. Ci sentivamo ogni tanto, una volta all'anno, a volte anche mai. C'erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c'erano altri in cui la rifiutava lui. Periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso. Alla fine hanno fatto finalmente coppia. Alessandra confida come Sarnino le ha chiesto di sposarlo, avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano. Uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni 50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere. Tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando, però era una cosa così sognata e desiderata. Che sembrava impossibile e che si stava avverando. L'anello non l'ho guardato neanche. Credo di averlo visto dopo più di un'ora. La Mastronardi non ha dubbi, lui è l'uomo della sua vita, perché l'ho capito la prima sera che abbiamo passato insieme. Quando ci siamo conosciuti. Glielo dissi, ho visto noi tra 20 anni. È qualcosa che non so spiegare. Con lui sono sempre me stessa, senza maschere. L'attrice rivela dove saranno le nozze, nella nostra terra, in Campania, certo. Ma non svelerei i dettagli, se no mi sa che saremmo in troppi. Insieme vogliono dei figli, quel sogno c'è, sarei contentissima se accadesse. Che bun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit, și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din Totto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic, avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text. Mafia, parasiții, dragonul, maxi, ghiespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, swap-o. Grasul nimenea altu, te-l vedeți sau carpo. Tre' să vă mănânci vers cu vers, card intens. Tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bar cu boss-ul.